Buonasera a tutti e benvenuti sul canale ragazzi la vogliamo attivare questa campanellina ci vogliamo iscrivere a questo canale no perché volevo trattare un argomento oggi del Napoli che vi dissi io sul Napoli? che cosa vi dissi io sul Napoli? il Napoli arriverà per quanto mi riguarda intanto qua si deve vedere i vestigli perché qua si diva io enzo che cosa vi dissi sul Napoli? no ma il Napoli allora voi state mettendo una Roma una Roma che vince lo scudetto no ok alzo le mani state mettendo una Roma che vince lo scudetto io alzo le mani alzo anche i piedi ok però il Napoli prendendo la Spadur Simeone Dombeli non mi rompete il cazzo non so come si pronuncia il nuovo acquisto forte Napoli da ottavo la gente ha messo il Napoli all'ottavo posto ma voi state fuori di testa ma voi avete capito che il perno del Napoli e il centrocampo o non vi entra in testa a voi la gente capisce che il Napoli al centrocampo forse è la squadra più forte della Serie A anzi che dico forse è la squadra più forte della Serie A qualitativamente dico eh tecnicamente c'è il Napoli e il centrocampo fa paura Zaneschi Lobotka Demme Fabianuzzi che pare che si è bloccato per andare a Parigi Dombeli Angissà ma di che stiamo parlando in attacco Politano Lozano vabbè Politano potrebbe partire Osimè Petagna eh Osimè Simeone a sinistra come cazzo si nomina lui e il Napoli arriverà settimo ma che cazzo vi fate i film ragazzi ma cosa sono questi film cosa sono questi film ma non scherziamo cosa sono questi film ragazzi vi state facendo troppi film la Roma è da scudetto niente me la Roma è da scudetto per aver acquistato Matic Di Bala e non mi ricordo Ewin Ewin a Roma è da scudetto e il Napoli che cos'è il Napoli non si può mettere fra le candidate e lo scudetto ma come cazzo ragionare ma che cosa sto sentendo cioè se la Roma è messa a vincere lo scudetto perché non non può essere messo anche il Napoli non capisco ditemelo ditemelo nei commenti fatemi sapere allora il Napoli ha fatto un mercato ok la Juventus è prima nel mercato perché vabbè i nomi di Maria Pogba vabbè quelli sono nomi fuori classe li conosciamo tutti però c'è da vedere il rendimento ok però sto Napoli Rash Padua Simeone Don Belì Ucoreano e vai giù il Napoli sale al secondo posto io avevo fatto un video dove la Roma era la squadra che ha speso di più il Napoli la squadra vai giù che si è rinforzata di più il cazzo l'ottavo posto occhio alla Champions League che questi stanno dentro anzi occhio anche allo scudetto perché se mettete la Roma se mettete la Roma a vincere lo scudetto io ci metto il Napoli scusami permetti se voi mettete la Roma che può vincere lo scudetto candidato allo scudetto io ci metto il Napoli fatemi sapere cosa ne pensate con me e vai giù ciao belli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti